bella a tutti voi ragazzi e ragazzi il vostro caro maestro king e benvenuti in questo nuovissimo video come potete vedere siamo qui su pokemon super mystery dungeon direi di andare avanti e allora qui come vedete ho una missione da compiere che lo faremo ora e direi di andare a vedere i vari membri da riprendere ok sia zoomarelli che azzurilla ok direi di andare a prendere il nostro amico wolf x magari riesco a diciamo a livellare abbastanza un po tutti quindi direi di esplorare diciamo questo luogo diciamo che siamo veramente veramente molto dei potenziali ok ora ho la possibilità di ah ok levaremo le varie mosse ho la possibilità di realizzare lo stesso ok bellum ok lello 14 qui non credo che ci sarà qualcosa che è rimasto a dormire che mi va più che bene pure di qua meno male che rimangono abbastanza dormibili alla fine ok 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 in basso in basso ah ecco infatti in basso ah ecco infatti ok direi 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 in senso di prendere gli strumenti ok da qui direi di usare questo strumento questo strumento in questo modo non volevo usare il B neanche il X ok 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 ora sicuramente andrò a ok ora sicuramente andrò a di quasi il pezzo non riuscito ad andare sopra le scale ok direi di prendere lo strumento e di continuare a settare di qua ok sono stati distrutte le cose quindi non si revive ok ah ok con uno di quelli che ho ottenuto ho la possibilità di vedere dove stanno i vari nemici il che va più che bene e ok ok avevo un deserto perfetto la cosa va più che bene ok è addormentato si ok quindi è rimasto giusto 2 per quanto riguarda e snipe ok si 2 oh altro nemico anzi no per fortuna no ok abbiamo raggiunto il piano 4 ok la difesa aumenta è chiusa con fusione ok ok vediamo se in questo caso riusciamo ad attaccare di nuovo si eh vediamo se riusciamo finalmente a fare un attacco ok ok finalmente a non non ok finalmente ok ok non posso svucciare e finalmente possiamo andare avanti ok tiriamo una mela quindi vediamo se con bene ora passiamola là davanti e ok fa il fig a raggiungere il livello superiore ok 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 ora ora una cosa sicuramente devo fare è prima cosa mangiare una mela e poi andare avanti ora devo cominciare con a con un' è un' Perfetto, quindi un altro, che salto a mannare un K.O. Ora, vediamo se in qualche modo riesco a provare a abbattarlo, anche in questo caso. Ok, possiamo salvare e continuare. Allora, se ne vanno e a posto. E quindi, giustamente, ci dici di andare a completare qualche altro orzo. Vediamo se posso vendere qualcosa. Ok. Volevo venderlo. Ed infine, questo dovrebbe essere l'ultimo. Ok. Questo per le trappole. Ok, quindi in teoria dovremmo essere a posto. Vediamo se ha qualcosa che posso prendere. Zero proprio. Ah, invece ho qualcosa. Posso... Un... 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 dungeon e ci mancano delle nuove ok è andato qua vediamo cosa ho preso, non l'ho visto vediamo se di qua qualcosa potremmo trovare ok di qua scendiamo di sotto quindi non ci conviene ma ben si ci conviene andare verso di qua come l'ho detto ok perfetto, ho riuscito a raccogliere il si, posso andare a raccogliere la pacca arancia e ho raccolto la mela ora devo andare verso il nord anzi direi anzitutto di non ci riesco andare a prendere lo strumento e si, andiamo subito verso il nord e ci è convenuto ok sono rimasto giusto un paio di punti potenza per quanto riguarda frustata spero di riuscire a salire il rielo il più possibile ok ha preso lupix ma va bene uguale e quindi ok anche quella zona esplorata vediamo se è fondamentale slip world ma quella in generale ok ora bisogna esplorare anche questo però questo è il quattro ok non ci riesco a batterlo si meglio usare ok dovrei essere quasi riuscito a batterlo dovrei essere quasi riuscito a batterlo infatti tu puoi essere parte te te ok ce l'abbiamo fatta sì ah non penso più che è di dalle ok non penso che che ci si si ci 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 ok questa è stata destrutta dubbio che anche quella uscirà e quindi l'unica cosa che posso fare è quella di andare su un altro piano ok direi che i nostri due dungeon le abbiamo esplorate direi che possiamo salvare e tornare all'interno del menu allora direi che per questo video è tutto spero che il video vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale e di seguirmi su twitter e sarà facebook ovunque vuoi vogliare io vi saluto ciao a tutti voi